Nel corso materiali e visualizzazione grafica vedremo come utilizzare i materiali all'interno di SketchUp, come personalizzare quelli già presenti nella libreria di SketchUp e come realizzarne ex novo a partire da immagini trovate sul web oppure a partire da fotografie fatte da noi, come salvare questi in una libreria personale all'interno del proprio pc per poterli riutilizzare in seguito. Vedremo come utilizzare immagini importate all'interno del modello e come controllare la visibilità degli stili di visualizzazione. Infine vedremo come controllare la visibilità degli elementi e utilizzare luci e ombre. Grazie. 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 Grazie.